La Pallabolo Cerignola, formazione di Cerignola nel Foggiano che disputerà dal prossimo 18 ottobre il campionato di Serie B di volley femminile, ha ufficializzato l'arrivo del nuovo direttore sportivo. Si tratta di Savino La Rocca, ex presidente dell'Avello, il quale, dopo la firma del contratto, ha dichiarato che il progetto della società è di buone aspettative e ambizioso. Intanto è cominciata la preparazione della squadra al Palla di Leo sotto la guida del tecnico Michele Valentino.